Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Life is Strange Oggi siamo qui per fare una scelta pazzesca E intanto mi scuso per lo scorso episodio che ho dovuto per forza tagliare di netto proprio con questa schermata Perché non riuscivo in alcun modo, mi ero totalmente bloccato, è una scelta troppo importante Ho dovuto praticamente mettere in pausa il gioco e sono rimasto a pensare a cosa, alle conseguenze che avrebbero potuto creare Che avrei potuto io creare in base alla mia scelta Prima appunto di decidere, non sono nemmeno sicuro Quindi ragazzi, una cosa importantissima, se vi siete persi gli scorsi episodi andatevi a recuperare almeno gli ultimi due Perché voi dovete arrivare a questa scelta per forza, nello stesso modo in cui ci sono arrivato anch'io Quindi passo passo, seguendo tutto quello che è successo per lo meno gli ultimi due episodi E ovviamente dovete aver seguito comunque tutta la serie Ed è inutile che adesso vi spiego qual è questa scelta che devo fare Perché voi già lo dovreste sapere appunto Altrimenti andatevi a rivedere gli scorsi episodi perché è davvero pazzesco Allora, qui si aprirebbe tutto un discorso molto 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 particolare Ognuno può avere ovviamente la sua idea, non voglio nemmeno entrare nei dettagli Fatto sta che devo rispettare in un qualche modo la decisione che ha preso Chloe Ma allo stesso tempo non voglio, non devo sobbarcarmi io questa responsabilità Il non lo so mi sembra una cosa troppo inutile Quindi non sceglierò, non lo so ragazzi Io non sceglierò, non lo so, anche perché interrompere lo scorso episodio per poi premere non lo so È una cosa un po' brutta Quindi sceglierò uno delle due Con questo voglio rispondere anche alla domanda che ponevo anche nella scorsa puntata Sono molto bloccato perché ragazzi questa serie è pazzesca Mi blocca tantissimo Si ricollega anche a tutte le paure che avevo io prima A questo punto credo proprio che se ne avessi l'opportunità vorrei tornare nel mio presente Non questo Però non voglio nemmeno pensare Cioè a questo punto è meglio ferire forse Chloe e quindi non accettare Piuttosto che avere il rimorso, piuttosto che vedere la propria amica Chloe morire Anche se in una dimensione parallela, anche se poi magari torno indietro e cambio tutto A questo punto è meglio ferire per... non è un attimo i suoi sentimenti Quindi però vabbè, meglio penso fare così Ovviamente qua sotto se volete scrivere quello che volete Tranquilli nel rispetto ovviamente di chi ha le idee differenti Ci tengo tantissimo a questo Dovete comunque rispettare le idee differenti di chiunque E quindi io penso che... sì, sto registrando Penso di rifiutare Chloe... Chloe... I can't... It wrecks me to see you in any pain But I don't have any right to do this I'm an adult I'm giving you the right But Joyce... And William... I already said my goodbyes to them But they won't honor my wishes You will... Right? I can't... Kill you with an overdose Max, I'm dying from my illness Not my dosage This accelerates the process I'd rather go out on a wave than a rock And I want my best friend to help me out I am going to help you But not like that You have to believe me, Chloe Why, Max? You're just bailing on me like everybody else Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back Chloe I am never leaving you again I'm sorry, William I can't even see you Grazie a tutti. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the square jar. You mean your college fund? You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us her world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never going to see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I, I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different. Like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen. Whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Allora, io non so se questo è un ramo, diciamo, della storia totalmente diverso. Magari con scelte appunto diverse sicuramente. Certo, sarebbe proprio totalmente diverso in quel caso. Non so se mi state capendo quello che voglio dire. Cioè, non so se ci sono queste due scelte alternative o se è abbastanza pilotato. Fatto sta che comunque... Fatto sta che comunque siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo qui, ragazzi. Mi metteva una tristezza in mane vederla in quel modo. E dato che ritengo più veritiero il presente che abbiamo imparato a conoscere senza William, il fatto che adesso purtroppo non ci sia più e meno doloroso piuttosto che... Piuttosto che vedere Chloe in quel modo. Addirittura chiedermi... Chiedermi tutto quello. Adesso, per Kate, per Rachel, dobbiamo fare di tutto invece per migliorare questo presente. Questo è veramente... Questa è veramente la cosa più importante. Chloé, tu è tornato! Wow, wow, down Max. Tu gotti un bacino e ora tu sei tutto per me? È proprio... È proprio... È proprio... È proprio felice che tu sei qui. Ragazzi che inizio pazzesco di questo episodio Non è vero? Ok, in realtà in qualche modo mi sarebbe piaciuto Sapere un po' Ok, in qualche modo mi sarebbe piaciuto vedere la sua reazione Non così per curiosità, ma per sapere se effettivamente anche lei L'idea di un'altra persona comunque Proprio come gli investigatori, la bacheca, tutte le foto messe lì È così vicino, ma è così vicino Dobbiamo fare tre cose principali Certo Che cose? Certo No No Di nuovo Ah, è vero Oddio, mi ero anche dimenticato quasi tutto quello che era successo qui Sì Perché ogni volta posso vedere il suo portafoglio? Comunque Comunque Scendiamo Scendiamo Andiamo di nuovo in garage Speriamo che appunto non ci sia David a rompere un po' le scatole Perché altrimenti sarebbe una bella scocciatura E speriamo anche che lei si ricordi la password perché non me la ricordo completamente Ok Ok David ce lo dirà a morte Ca ha troppo Ho vinto in questa battedione, Max Ho vinto la mia famiglia Ho saluto con te David Ha sperato di ti Semлиcare Noi non non consentirebbi per chi Chloe È davvero lato, non ci sono Mi sembra di essere molto in colpa per David Mi sembra che David ha già avuto un'intera Oddio Stanno succedendo troppe cose No, aspe Cosa? Dai, ma non può essere che gliel'ha detto No, vabbè Che cacchio fai, Chloe? Allora, mi sono perso un po' di messaggi Ma, Justin, chi sei? Ma che è? Ok, stava indagando Vediamo, vediamo qui Va bene, lasciamo stare Vittor... Eh? Signor Telemmo? È da non volere nessun dosso con lui È sempre... Ah, ah, ah Vittoria non puoi capire quante te ne faccio se ho la possibilità Cioè, proprio mi stai sulle scatole in una maniera incredibile Allora, 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 allora Dobbiamo andare da questa parte Possiamo indagare per qualche motivo Anche se il computer ovviamente se lo sarà portato È indizio di cosa? A parte della frase di David dove ci ha detto di stare attenti e non andare in giro col buio Vuol dire che forse ci aveva visto Non so perché ha lasciato delle email così stampate Eh sì, ecco perché lui comunque E questa qui è però interessante come cosa Ecco perché lui era, diciamo, in combutta con Nathan Perché se lavora con loro ci può stare Allora, vediamo se c'è qualcos'altro Guarda, William's staff Già Eh, scatola di cartone l'ho vista Scatola di cartone un'altra Eh, infatti No, la seconda mi sembra molto più probabile Comunque, comunque, comunque Continuiamo a guardare per vedere se ci sono delle robe Eh, ecco Già questa Già questa è una cosa che non mi piace molto Comunque Continuiamo a cercare anche da questa parte Poi andiamo dall'altra parte Può essere che andrà alla festa più che altro per controllare qualcosa Piuttosto che per Sì, sicuramente non per festeggiare Comunque, vediamo se qua c'è qualcosa Visto che, appunto, prima c'era la macchina L'unica cosa che è cambiata è proprio questa Cosa possiamo fare? Che cosa vuol dire tutto ciò? Avevo messo una data Ah, ok Pensavo di poterlo rompere Quindi, avevo già visto che c'era questo Proprio in bella mostra Però pensavo servisse di nuovo un codice Mi pare che nel 1997 fosse una di quelle date Forse era la stessa del PC Non lo so Però Oddio, forse potevo anche evitarmelo E cercare comunque la data O il codice, insomma Ma dei video se n'è andato Che cosa? Uh, questa sì che è interessante Non riesco a leggere, però va bene Questa è molto interessante già Va bene Vediamo se troviamo qualcos'altro di ancora meglio No, va bene Torniamo da Chloe Molto, molto interessante questo E dobbiamo risalire da questa parte Non credo che ci sia qualcos'altro da vedere Ah, la faccio scendere Ah, la faccio scendere Ah, la faccio scendere Ah, la faccio scendere Ho dovuto tornare al mio dormitore Siamo felici? Molto felici Ho scendere il file segreto Jackpot Kate, Nathan And Rachel Plus, alcune co-ordinazioni David è come un'armigia di un'armigia di surveillazione Now, vabbiamo da qui Prima di arrivare Ma devo assolutamente Andare a vedere Kate In un ospedale Allora Questa è sicuramente Questa è sicuramente Dobbiamo girare intorno Dobbiamo andare direttamente da lei Questa è sicuramente E' sicuramente E' sicuramente Ecco Sta meglio Sta assolutamente meglio Anche, vabbè Cambiare aria Sicuramente Anche se l'ospedale Non è il massimo Però Sicuramente le serve Questa è sicuramente Questa è sicuramente Questa è sicuramente Questa è sicuramente Dostante che mi raccoglione Gave me some pen and paper So I could do some drawings I love your illustrations They got kind of dark there For a while But I have an idea For a new children's book About bullying I was thinking of having Some photographs in there too I hope that's a subtle hint That you'll let me take The photographs for the book Was that subtle? You better take the pictures, Max I'm going to be here For another day Until my family comes out to visit How are they treating you? Like they need to protect me forever They're so upset And I know they feel guilty Even though they didn't do anything I was surprised how many students From Blackwell wrote me Daniel And Mr. Jefferson Even Victoria wrote me A very sweet note And I believe she was being real Me too I'm glad you believe again, Kate I'm working on it, Max I just pray I can get this drawing right Va bene, ok Abbiamo fatto bene a dirle che Sì, Kate magari è stata sincera Perché Perché le serve, ovviamente Oh, I love Kate's happy rainbow flock Ok, Kate Ora, adesso le dovremmo dire La cosa di Natalie I don't think get well is quite apropos Fiori, va bene, dai Parliamo direttamente con Kate Fino a po' c'è arrivata Max, ti do so much And I can tell you Want to talk to me about something Stessa cosa Dello scorso episodio Battene, tipo Che noi diciamo a Kate Kate, battene Via, via Fuori Parliamo di Natalie Allora Vortex Club Famiglia Prescott Parliamo della famiglia Prescott Think that his family is totally protecting him Or worse I never say this about people But Max There's something evil about the Prescott They have something to do with death We're going to stop him I just have to find Nathan's room number Get inside And get the clues I need Max, please let me help I can get the number And I'll text it to you Okay? Certo, Kate. Non posso fare questo senza te. Ora è il momento per Nathan guardare per noi. Io sempre voglio parlare con te. Abbiamo perduto la nostra sessione di tèa questa settimana. E' stato molto bello. Dobbiamo planare un tour di tèa in Portland. Oh, sì. E potete anche portare Warren. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cute pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so we'll see. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad that somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Normale che le abbiamo dato a mangiare a Tandy, se moriva, cioè, sarebbe stato un po' brutto. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Vabbè, Nathan. Victoria Chase might be queen bitch, but she's not evil. Vabbè, dai, comunque, cioè, non è che da queste due parole, forse ce l'ho io troppo con Vittoria, perché non mi piacciono quel tipo di persone. Però, però non ci credo, fino in fondo. Cara Kate, voglio farti i miei auguri, l'Accademia, rega, è ok. Gli studenti di docenti hanno organizzato una manifestazione in tuo onore, non avevo mai assistito a delle espressioni di sostegno, va bene. Non significano molto, le circostanze, va bene, va bene. Anche il presidente, sono parole di circostanza, ragazzi, non per niente è il presidente. Grazie. Grazie. No, più che altro è stata la botta di culo quella di dire Matteo, non mi ricordo più nemmeno i numeri, perché quello proprio l'ho detto totalmente a caso. Perché mi ricordavo che sia la madre che il padre nelle loro lettere, comunque non erano molto vicini, anzi erano più volte. Mentre le sorelle, mentre le sorelle, mentre le sorelle erano la scelta giusta. Bene, abbiamo fatto bene un po' di cose, spero la maggior parte. Ok, qui c'è il presidente con Mr. Jefferson Runs. Oddio ragazzi, dobbiamo entrare all'interno della stanza di Nathan, qui ci siamo ragazzi, qui ci siamo. Entrare all'interno della stanza di Nathan vuol dire scovare certi segreti, presumo e lo spero anche, inimmaginabili. Quindi sarà sicuramente importantissimo e non vedo l'ora di farlo. Con i nostri poteri magari potremmo riuscire a farlo come siamo riusciti a intrufolarci da qualche parte le scorse volte, anche questa volta. Ciao Mr. Jefferson, sono ok. E questo è il mio amico Chloe. Ciao. Perché non è una persona così bella come tu, a andare a Blackwell? Oh, sono arrivato alla stanza di scuola, è una storia lunga, in reali file, qui. Posso immaginare. Max, sei sicuro di che sei bene? È vero, solo, essere a campus, come tutto è normale. Non c'è qua, non c'è nessuno. Sono orgoglioso di aver guardato così tanto di un amico problemato e prendo spero nel fatto che hai abbastanza di tempo per trovare il vostro modo solo... andate nel corso di mettere il tuo lavoro Grazie, signor Jefferson sicuramente sarò qui oggi me anche, sarò il date di Max potete danci con noi almeno una volta e nessuno dovrebbe avere vedere me danci plus, non vuoi guardare il vecchio hipster cercando di guardare con i bambini ho qualche orgoglio vediamoci sì, dovrei ehi ok, 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 allora ragazzi, io direi che a questo punto ci possiamo salutare direi assolutamente ci possiamo... dov'è Alissa che magari gli lanciano qualcosa? dov'è? dov'è? ah, là c'è Chloe qua ci sono sti due che giocano a football in qualche modo va bene ragazzi, allora io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate le campanine social in descrizione lasciate un bel like a supporto di questa serie che... wow, quanto è bravo quello lo skater che ha bisogno assolutamente di tutto il vostro supporto per andare avanti perché ovviamente come avete ben capito tratta delle tematiche molto molto mature quindi non tutti quanti i ragazzi che seguono appunto i miei video possono e vogliono magari anche guardarlo quindi voi invece che volete questa serie perché so che ce n'è pure parecchi comunque supportatela come ho detto più poco fa quindi tanti pollicini in su, tanti bei commenti qua sotto per farmi sapere la vostra e ci vediamo alla prossima non mancate, ciao